La migliore pizza della città e tantissime specialità di pollo in via Simone Guli 33 a Palermo o comodamente a casa tua chiamandolo 091 54 45 03 ed ogni 10 punti per te in omaggio un pollo ed una pizza. Pizzeria Leone Salvatore e figli via Simone Guli 33 a Palermo telefono 091 544 503. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.